Pensiero del giorno. Osservo il flusso di energia attraverso il mio terzo occhio. Quando ho l'intenzione di avere visioni d'amore, il potere di guarigione scorre attraverso di me. Per il mio terzo occhio è sicuro essere completamente sveglio e consapevole. Rendi onore alla tua vista guaritrice. Oggi continuiamo a parlare di come aumentare il flusso di energia universali di guarigione. Ci siamo concentrati sulle mani e sul cuore. Ora lavoriamo con il chakra del terzo occhio. Il terzo occhio riceve e invia luce intensa. I vari chakra interpretano le informazioni energetiche in modo diverso. Le mani si focalizzano sulle sensazioni fisiche, il cuore sulle emozioni e il terzo occhio sulle visioni. Puoi utilizzare tutti questi punti insieme per avere un quadro olistico della situazione. Il terzo occhio, come gli altri chakra, è controllato dalla tua volontà e dalle tue intenzioni. Ogni tensione o dubbio da parte tua può interferire con questo processo. Quindi concentrati e lascia che tutto il resto accada naturalmente. Comincia stabilendo due intenzioni. La prima. Voglio che il mio terzo occhio diventi sempre più sensibile a immagini d'amore. La seconda. Il mio terzo occhio ora invia energia di guarigione a tutte le persone che vede.